Salve a tutti ragazzi, sono Tecraz per il Magliolo Come vedete, sta questo gioco Voi dite, come fa dal telefono? Allora, questo qua è una team box tramite la linea che tengo E mi hanno portato questo da un sacco di tempo Non l'ho potuto mai portare perché non tenevo più il figlio Io ho portato la mia Playstation ad aggiustare E oggi, come vedete, non so perché Quando sei una riuscita verifica che tiene la linea internet Riprovo Ragazzi, faccio una cosa proprio Ragazzi, rieccoci qua Questi sono altri tutti i giochi Si chiama Modern Combat 5 Il gioco che vi devo portare Non so perché fa così Andiamo a vedere La linea è bene Ciao Nanna, saluto Non saluto L'ora è regga Una cosa semplicissima Si accenta? Ragazzi, vediamo una volta che ho riuscito Ragazzi, me lo sto ricaricando Il motivo perché Io ho fatto tipo delle modifiche di file Tengo pure un gioco di macchine Solo che non so se a voi vi piace Come vedete Ora Sta funzionando Si sta scaricando Eh, non vedo l'ora Eh Sì, si è scaricato Come vedete Appena lo scarico Per poter... Ok Poi dovete trovare un'impostazione Bene Vicino a questo mobiletto Arda controllo Fai Lo faccio così Sì Dove il tempo che scarica Abbiamo fatto L'ora Ora si deve caricare Allora Rega Mi volevo dire Stati con un altro tipo di gioco Che è un gioco di macchine Io mi ho incominciato a farlo Perché il tramite che l'ho riuscito Scusate, si guarda sempre là Che ho riuscito a fare questa modifica Qua E mi sono scaricato Un gioco di macchina Vi volevo dire Comunque una sorpresa GTA No Voi non me lo chiedete GTA Però Io tengo la Playstation Ad aggiustare L'ho mandato Ad aggiustare Da mio padre L'ho fatto ad aggiustare Quindi tengo GTA 5 GTA 4 Call of Duty Non mi ricordo i nomi E comunque Vi porterò questi giochi Mo' io li faccio vedere Aspettate Allora Ragazzi Questi sono i giochi Che vi avevo detto Per esempio GTA 5 PS 2012 Call of Duty GTA 4 Questo gioco Me l'avevo comprato E poi si era rotta la Playstation Come vedete Come vedete Questo gioco non è che mi piace tanto È di motocross E butterfly Il mio preferito Che lo sto continuando di fare Una domenica Poi non mi è funzionata più la Playstation Che avevo riuscito pure a far funzionare Come vedete si è caricato Che merda ho fatto No Raga Raga Si sta caricando Allora Io mi fermo in questo video E ci vediamo nel prossimo video Ragazzi Poi Credo più stasera Mi parte il video Di Questo gioco qua Ok Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti